Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video e io sto... Battendo le mani Comunque, benvenuti a questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo tornati su New York Taxi Life Science Quinto episodio ragazzi Sono arrivato a livello 15 Sì, proprio questo livello 15 Quello dovevo fare manovra Basta con la musica, per favore Fai così? Dove? Devo andare a destra Indominato, che sfortuna Che cosa? Cosa fa? Cosa? Ma partiamo bene Benissimo Io non ci credo Sinistra Giusto, che fortuna Ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho... No, non mi fare questo Ti prego, non mi fare questo Farò una piccola deviazione Solo che nessuno mi deve tamponare Adesso passano tutti di qua Ovviamente Ti prego, non mi tamponare Bravo, bravo zio, bravo Bella macchina Non mi devo fermare Speriamo che nessuno mi tamponi Specialmente con lo scermellato che mi ha tamponato prima E meno male che non mi ha dato Una violazione del traffico Perché se noi iniziamo a uscire fuori dal taxi A menarlo Incredibilmente Credo che questo tizio che mi fa l'ok Sia Come dire Sia Fog one Credo ragazzi Credo Siamo all'in... Abbiamo quasi finito il gioco ragazzi Ci manca pochissimo Una manciata di livelli E poi abbiamo finito Ciao zio Bella giacca Me la dai A posto dei soldi? Allora ora dove devo andare? Dove devo andare? Dove? Ho un brutto presentimento Quindi faccio il giro A posto Al contrario A posto Vai che verde Vai si Avevo il presentimento io Avevo il presentimento io Sono un indovino ragazzi Sono un indovino Niente da fare Sono un indovino D'accordo A che livello siamo? Non lo so Non lo so a che livello siamo ragazzi Ho perso il conto Allora Devo andare Un sacco Di metri Più in là E' verde Speriamo che non mi tamponi nessuno Ce l'ho fatta Che cosa stava facendo quello? Ragazzi sto sudando Da quanto Allora 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 Devo dire Bella vista Zio Bella vista Proprio sulla statua Della libertà Ma wow Non credo Non ci credo Cos'è stato Vabbè C'è niente Lasciamo stretta Zio Hai chiamato I tuoi gemelli O cosa? Ma perché O mi si è scompiata La vista O hai dei gemelli Che si vestono Come te O quelli sono I tuoi cloni Zio Perché sono tutti uguali Non ci vuole tanto Dai forza Ingrana la marcia A 600 all'ora Così che arrivi prima Forza No Dai che ci sono Qualcosa mi dice Non sarà così facile Infatti io faccio il giro Perché sono stra intelligente Ragazzi Io sono troppo intelligente Dovete capirla Questa cosa No 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 D'accordo Forse non sono così intelligente Come dicevo prima Però lo sanno leggermente D'accordo Allora Dai che lo investo Ma perché Non mi sei fatto investire Ok Qualcosa mi dice Che devo andare In contromano E quindi Non andrò In contromano Perché questo Ma dove vado io Perché questo Ma dove vado io E mi intraccia pure la strada Muovi tu zio Se no Di tampone Vedi che Picchio pure quello pelato Ma Questi fanno violazioni Di strada Ogni 5 minuti Non ci posso Non ci posso credere Togli tu zio Ti prego Che è successo Oh no 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 Proprio no Allora Fammi capire Tu vuoi che io Facci il livello da qui Fino a tre altre cose Perché Solo perché Sono andato Leggermente Sul marciapiede Senti zio Sai cosa ti dico io Mi licenzio Ecco cosa ti dico Che mi licenzio Mi licenzio Mi licenzio Mi licenzio Mi licenzio D'accordo Allora Non la prendere male Ma Non puoi Dar Darmi Questa Non puoi farmi rifare Il livello intero Ogni volta che faccio Un minimo errore Dammi almeno Una possibilità Di fare Qualcosa Di Ok L'hai capita Questa cosa L'hai capita No zio Mi devi dire Se l'hai capita Se fai scena Muta Guarda che ti tiro Un pugno In faccia Ti faccio Ti faccio uscire I capelli dal naso Ti faccio uscire Tu non rispondere E io finisco La puntata qui D'accordo ragazzi Se il video Vi piacere Lasciate Commenti Vi piace Qua sotto No Niente E ci rivediamo Un prossimo video Di Mincer Moni Bella ragazzi Ti faccio uscire Ti faccio uscire Ti faccio uscire Ti faccio uscire